Atto di consacrazione a San Gabriele Arcangelo O glorioso Arcangelo San Gabriele, che fra tutti gli angeli sei stato scelto in modo particolare da Dio, per annunciare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Ti saluto, o Messaggero Divino, e mi consacro a te con umiltà e profonda devozione, affinché tu mi conceda di ottenere la grazia della tua protezione. Vieni in mio aiuto con le legioni dei tuoi angeli e aiutami a compiere la volontà di Dio ogni giorno, secondo il mio stato di vita. Aiutami a imitare l'esempio di umiltà e di obbedienza di Maria. Conducimi amorevolmente lungo il cammino quotidiano della croce. Consolami in tutte le ore difficili. Sì il mio Avvocato in cielo. Rafforza e aumenta il mio pervore nei confronti dell'Eucaristia. Purifica il mio cuore e rendimi degno di ricevere la comunione con il corpo e sangue di Cristo. Ottienimi che io divenga uno stensorio vivente. Mi affido a te per l'eternità. Nell'ora della morte rivelami di aver trovato grazia agli occhi del Signore. Grande sarà la mia gioia nel momento in cui potrò contemplare in cielo i tuoi meriti e la tua bellezza. E godere in eterno degli effetti della tua protezione. Amen